Sicuramente è indispensabile la formazione per qualsiasi professionista. Le cose sono sempre in continua evoluzione, quello che andava bene dieci anni fa oggi non è più adeguato. Questo a tutela del cliente, ogni professionista deve essere sempre formato con le ultime novità. Ciao Roberta, ciao Sonia. Da geometra ad agente immobiliare, come ha influito la tua formazione e come influisci ancora tutt'oggi nell'ambito del tuo lavoro? Ha influito tantissimo in modo estremamente positivo perché sono nozioni che ho appreso un po' di tempo fa ma ad ora ancora oggi le uso quotidianamente sia per la valutazione sia per la parte di consulenza. Hai mai dovuto Roberta gestire una compravendita particolarmente complessa? Oggi sono tutte complesse perché ogni immobile ha la sua storia, le sue criticità. Il nostro lavoro è quello di andare a vedere dove potrebbe essere la difficoltà appunto di quella pratica. Prova a riassumere il tuo lavoro in una parola, qual è e perché? Condivisione perché diventi per le persone un punto di riferimento e con loro devi condividere tutto, non solo gli aspetti della compravendita ma gli aspetti anche più personali, più intimi delle persone. Nel 2018 entri a far parte di impresa, quali sono i valori in cui ti sei ritrovata di più? Collaborazione, collaborazione perché in questo modo possiamo interscambiarci delle informazioni, esperienze, notizie. Ho scelto di entrare in impresa per avere questo supporto. Prima facevo questo lavoro in questo ufficio, ero sola e dovevo gestire il tutto e nei momenti di difficoltà non sapevo neanche con chi dividerli. Con questa scelta mi sento più serena e tutte le difficoltà le affronto con un spirito diverso.